I creatori di Fortnite e Minecraft si sono lanciati frecciatine e criticati pubblicamente. Sembrava molto una litigata tra le ragazzine su TikTok. Minecraft, quando ha annunciato il suo chat update, dove veni bannato su insulti in chat, tra l'altro è l'aggiornamento più odiato della sua storia, ha anche detto che su Minecraft non saranno mai presenti gli NFT e le ha criticati fortemente, dicendo che sono completamente inutili. Ora, io non sono un esperto, ma penso che un'azienda non dovrebbe esporsi così tanto. Alla Epic Games ha dato infatti molto fastidio questa affermazione, e ha detto alla Microsoft di farsi i fatti propri se non capiscono il loro vero potenziale e di lasciare l'argomento a chi se ne intende. Sono morto dal ridere, sembrano delle bambine quando si lanciano le frecciatine su Instagram, con la differenza che sono la Microsoft con Minecraft e l'Epic Games, ovvero...